Dove tu vai, dice il Signor, ci sono anch'io. Quello che chiedi nel nome mio io lo farò, quello che provi dentro al tuo cuore lo vedo anch'io, la sofferenza e il tuo dolore lascialo a me. Un cuore nuovo oggi ti voglio dar, io sono il pane disceso per te. Prendi il letuccio e cammina pure tu e la tua fede ti guarirà. Quel Gesù che fu rinnegato è vivente e più potente che mai, nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina. Quel Gesù che fu rinnegato è vivente e più potente che mai, nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina. A Bedestà un angelo le acque agitava e vi guariva chiunque per primo riusciva a entrare. La si trovava da 38 anni un uomo malato, Gesù lo vide e chiese a lui, vuoi guarir. Lui è qui adesso e lo chiede pure a te, credi in Gesù e lui ti guarirà. E come Pietro al tempio di Sendui, in umiltà io lo voglio dire a te. Non possiedo né oro né argento, ma ti do tutto quello che ho, nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina. Non possiedo né oro né argento, ma ti do tutto quello che ho, nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina. Grazie a tutti.